Quindi Fabio, ci sono persone che vogliono viaggiare e non vogliono essere fermi in un posto. Per quale motivo ritieni che il closing sia la soluzione perfetta per queste persone? La domanda è perché il closing è l'opzione migliore per loro, in poche parole, no? Questo chiedono. Esattamente. Quando tu vuoi svincolarti dalla realtà attuale, devi cambiare totalmente le regole in gioco, no? E quindi perché il closing è la mossa migliore? Perché quella capacità, quell'abilità maestra, oltre a darti la certezza che tu, viaggiando ed essendo libero, possa sostenerti economicamente, perché il closing, a differenza delle vendite tradizionali, ti dà un unico processo specifico che ti aiuta a chiudere vendite. A parte quello, il closing ti mette poi in controllo della tua vita anche al di fuori del business. Quindi quando ti muovi molto, sei libero e viaggi, hai a che fare con un sacco di persone. Magari affitti un appartamento, magari compri un biglietto aereo, vuoi dei benefici da questo stile di vita. E molte volte, se ci manca una capacità comunicativa come il closing, rischiamo di accontentarci. Invece una persona che vuole fare questo stile di vita, vuole vivere alla grande, no? Quindi il closing ti rimette in controllo proprio del modo in cui tu ottieni quello che vuoi dalla vita. Quindi perché il closing è la migliore opzione se vuoi imparare a vendere? Perché non è solo vendita. Facendo uno stile di vita libero, quello che tu non vuoi è essere in balia degli eventi, no? Quindi immaginati prenotare un hotel, arrivare in quella camera d'hotel che è sempre desiderato. Finalmente è un lavoro da remoto, puoi lavorare dove vuoi, puoi vivere dalle tue passioni, arrivi lì e la camera non ti piace. Attraverso il closing puoi prendere il telefono, chiamare alla reception e richiedere un upgrade. E chiudere la persona che ti ha prenotato quella camera al capire che tu non sei soddisfatto. Senza la capacità del closing non puoi fare questo. Durante i tuoi viaggi vuoi conoscere persone e vuoi avere compagnia, no? Vuoi conoscere persone, avere nuove esperienze. E senza la capacità comunicativa del closing è molto difficile farlo in tempi brevi. Potresti spendere giornate intere al provare a comunicare con le persone che incontri senza poi creare legami forti, no? E divertirti alla grande. Quindi il closing, a parte funzionare per il business, no? E per fare soldi, cosa che per chi vuole essere libero è abbastanza relativa, è più importante per loro sicuramente entrare in controllo della loro vita a 360 gradi e poter vivere alla grande, viaggiare il mondo e fare grandi esperienze con la garanzia che la comunicazione che hanno gli dà sempre quello che vogliono. Questo è il perché il closing è la scelta giusta da fare adesso. Grazie a tutti.